E adesso cambiamo argomento, estate 2009 all'insegna della crisi o delle vacanze, lo scopriamo in questo servizio. Alla crisi, alle ferie proprio non si può rinunciare e così ecco pronta la parola d'ordine, mare, mare e ancora mare. Sì, perché questa estate 2009 per gli altoatesini ha l'insegna di spiagge incontaminate e tramonti da togliere il fiato. Tra una palma e l'altra insomma è più facile dimenticare il duro anno lavorativo. Grecia, Portogallo e le Baleari, le prime della lista, le mete preferite per giovani coppie e single alla ricerca di un po' di sano relax. I bolzanini non rinunciano a spostarsi, la vacanza è sempre una ricerca di benessere, l'offerta si è ampliata nel frattempo, di conseguenza ce n'è per tutti i gusti. Diciamo che forse si avvisa una disponibilità di vacanza più all'ultimo momento rispetto alla classica prenotazione anticipata che invece esisteva più facilmente anni addietro. Più o meno le mete più gettonate quali sono? Ma senza dubbio la Grecia è sempre molto richiesta, isole Baleari e qualche meta insolita quale il Portogallo. Sul lungo raggio ha ripreso molto gli Stati Uniti d'America e delle mete alternative quali il Canada e qualche cosa dell'America Latina. Per una coppia per esempio una settimana in qualche posto di mare quanto può costare? Si può spendere tra luglio e agosto dalle 800 euro a settimana fino ai 1500 in area mediterranea. Tra le mete preferite degli altoatesini mare al primo posto, poi montagna e infine lago. Le capitali europee è meglio visitarle in altri periodi dell'anno. Ora si ha solo bisogno di una spiaggia, un lettino e un po' di tintarella. Ingredienti perfetti per un cocktail firmato estate 2009. Ingredienti perfetti per un cocktail firmato estate 2009. Ingredienti perfetti per un cocktail firmato estate 2009.